Continua la preparazione della Pescara in vista del match decisivo per il terzo posto domenica inizio alle 17.30 a Picerno e la Pescara ha due risultati su tre a disposizione per chiudere la stagione regolare in terza posizione. Non ci sarà ancora il portiere Plizzari che sta però molto meglio, assente anche Vergani, da valutare le condizioni di Cancellotti out Luca Mora. Intanto questo pomeriggio presso la sede di Sebac, pomeriggio con tanti giocatori biancazzurri per lo sponsor, primo sponsor di maglia del Pescara, ha parlato ai nostri microfoni Luca Palmiero. Lo ascoltiamo con le immagini di Diego Martelli. Palmiero, partita che vale tantissimo, in palio il terzo posto, Pescara che andrà a Picerno domenica con due risultati su tre a disposizione. Sì, non dobbiamo pensare di avere due risultati su tre a disposizione, dobbiamo lì andare a fare la partita e cercare di portare a casa i tre punti. Una squadra è il Picerno, un po' sulla falsariga del Taranto, anche del Monterosi e la gara di andata. Quelle squadre che sanno aggredire e sanno far giocare male il Pescara. Sei preoccupato? No, non sono preoccupato perché so che se facciamo quello che dobbiamo fare la partita la portiamo a casa. È chiaro che affrontiamo una squadra che è un'ottima squadra, l'ha dimostrato la posizione che occupa in classifica, che sa sia giocare sia venirti a prendere. È una squadra che sa fare tanto, diciamo, e lo dimostra la posizione che occupano in classifica. Però noi siamo il Pescara e non dobbiamo avere paura di nessuno. Ti chiedo, Luca, hai quattro cartellini gialli sulle spalle, tradotto sei in diffida. Questo può influenzare un po' la tua partita, visto che poi ci saranno i play-off? Non c'è da pensare alle partite dei play-off. Anche se dovessi saltare la prima partita dei play-off, ci sono tante partite da affrontare, soprattutto se riusciamo ad andare avanti. Per arrivare bene ai play-off e arrivare in una posizione classifica agevole, dobbiamo pensare alla partita col Picerno e non a un eventuale play-off. Ti chiedo l'ultima cosa, forse la più difficile, Luca. Palmiero prima dell'arrivo di Zeman, Palmiero dopo l'arrivo di Zeman. Tutto un altro giocatore, oggi sei insostituibile per il Boemo. Cosa è cambiato? Il mister sicuramente mi ha dato più fiducia. Io ho saputo sfruttare la fiducia che mi ha dato, ho saputo ricambiare. Io lo stimo tantissimo e lo ringrazio per questa fiducia che ho avuto nei miei confronti. Prima del suo arrivo forse ha influito anche... Sicuramente le mie prestazioni non erano quelle attuali, però ho anche giocato veramente poco per dare dei giudizi. Per i meriti miei sicuramente, per i meriti anche dei miei compagni di squadra e per scelte dell'allenatura. Però ormai quel che è fatto è fatto. Voglio pensare solo al presente e al futuro prossimo, che si chiama Picerno. Grazie. 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 Grazie.